Ok ragazzi, oggi vedremo qual è il mio massimale di Hammer Karl con manubri Per quelli che mi verranno a dire Eh ma la tecnica fa schifo, state zitti Se non mi segui avrai 10 anni di sfiga Iniziamo col massimale di pigne, 5 kg Volevo fare 15 kg ma non ci sono quindi andiamo con 16 kg Facile Il massimale di panca piana con manubri di nacci 25 kg ovvero il massimale di stacchi di lollo Facile 35 kg, questi iniziano a pesare, non so se ce la farò Passabili 40 kg, se faccio questi stasera lollo mi fa un sofficino Sei pronta stasera? 45 kg, secondo me il cammino del brode si ferma qui E infatti Triste Allora dato che i 45 kg li ho falliti Mi tengo miei umilissimi 40 kg di Hammer Karl Fatemi sapere che massimale volete vedere la prossima volta Grazie a tutti